Andiamo a dare un'occhiata alle impostazioni. Se non vuoi perderci tempo ti dico subito che puoi lasciare tutto di default senza problemi, altrimenti andiamo a vedere le varie opzioni. Qui è dove scegli se avere lo sfondo bianco con scritte nere o viceversa. Il livello di zoom determina quanto grande vedrai i testi. Non riguarda la grandezza del testo dell'esportazione, cioè del file o nella stampa, ma solo la grandezza che vedrai durante la lavorazione. La lingua del programma, la cartella del computer dove Bibisco salverà i progetti. Come vedi il programma ci avvisa che se il progetto che vogliamo fare è già presente con lo stesso nome nella cartella che abbiamo settato, come cartella principale, il progetto verrà aperto invece che creato. Questo per evitare che un nuovo progetto vada a cancellarne uno vecchio, sovrapponendosi.